allora cominciamo così con le mascherine però la distanza è quella giusta adesso io mi sanifico la manina così se la sanificate grazie schiavo che con me siamo precisi togliamo le mascherine eccoci qua grazie schiavo con me perché io e lei abbiamo una cosa in comune ci siamo sposati nello stesso posto a distanza di anni diciamo e non insieme francamente perché ci siamo sposati in un posto dove in realtà in questi giorni al cinema si va a divorziare è vero è vero e non è da tutti a trovarsi così a parlare di ma io mi sono sposato a las vegas e lui poi tra l'altro nella stessa cappella dove io mi sono sposata e dove abbiamo girato graceland ci sono quelle coincidenze incredibile coincidenza incredibile che racconta in realtà il film che avete realizzato con andrea delogu con giampaolo morelli con il tuo compagno in armi diciamo e anche in amore in questo caso ricky memphis la regia di cartani umberto cartani cartani e giampaolo morelli giampaolo morelli e cimbo tognazzi invece cimbo tognazzi c'è il promesso e futuro sposo allora il tuo ruolo in questo film è un ruolo abbastanza particolare perché tu sei di fatto l'ancella di andrea delogu è un'ancella che però cambia piuttosto radicalmente il suo modo di essere donna di approcciare alle storie approcciare all'amore e anche di essere sorella nei confronti di andrea insomma cambia parecchio durante il film è curiosa la tua sì cambiamento sì e questo lo trovo molto interessante sia dal punto di vista attoriale e poi anche come rimando alla vita no nel senso che noi siamo sempre lì che dico performiamo dei ruoli attraverso la professione nascondendo anche dei bisogni e delle fragilità e questo è un avvocato molto rigido molto determinata che davvero sente una un'amicizia una spinta verso verso andrea nel senso noi siamo siamo legate collaboriamo io io cerco di sostenerla ed aiutarla infatti sono io che scopro che non si può sposare se non dopo aver annullato il precedente matrimonio con questo ragazzo che aveva sposato in un momento di follia a las vegas all'età di vent'anni però sì è vero io cambio a un certo punto e cambio con l'incontro l'incontro dell'amore che in qualche modo è facilitato anche dall'amicizia quindi ci sono proprio due binari interessanti che sono quello dell'amicizia e quello dell'amore e io capitolo incontrando ricky memphis alias lucio nel ruolo comunque fortunato ricky mentis nella circostanza in questa in questa in questo ruolo effettivamente ti chiedo tu proprio grazie quanto ci sta in che parte sta delle due due donne è nella follia cioè nel senso io mi riconosco in entrambe le parti in realtà perché io tutta la vita mi sono protetta e ho diciamo tenuto sta corazza proprio per 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 paura poi di incontrare il mondo di incontrare gli altri di di essere vista fraintesa travisata però tutte queste paure in qualche modo non fanno altro che amplificare invece il bisogno di di dell'incontro il bisogno di essere autenticamente se stessi ed essere amati per quello che che realmente siamo che magari a volte è anche più interessante no e quindi mi riconosco ti dirò in tutte e due le parti è un film nel quale i ruoli femminili sono i ruoli alfa nel senso che sono effettivamente quelle sono i playmaker della situazione ma infatti oggi la leadership femminile insomma è un fatto riconosciuto le donne proprio così oppure in qualche maniera è un film che quasi si augura qualcosa diciamo che un po se lo augura perché questo potere alle donne ancora io non lo vedo così proprio questa consegna però è bello che che attraverso il cinema e questo sta accadendo negli ultimi anni si torni a parlare di solidarietà femminile si torna a parlare di solerlanza e di amicizia questo infatti ci sono sempre più al centro delle pellicole proprio storie di amicizia insomma abbiamo visto anche quella del libro della ferrante molto interessante e anche perché poi le donne quando sono davvero solidali cioè fanno fanno davvero gruppo e squadra riescono veramente a fare grandi cose cioè a trovare all'interno di sé tutte le risorse chiaramente attraverso l'altro perché sono l'idea che abbiamo sempre bisogno del dell'altro allora stai rivedendo il film vi capiterà di rivederlo perché andate a fare appunto i giri nelle sale insomma salutare insieme al pubblico che vorrà affrontare giustamente ritornare nelle sale ricordiamolo che nelle sale per chi è stato in questi in questi giorni si sta certamente molto più sicuri che su un autobus della mattina ve lo posso garantire brevissimo ricordiamolo perché giustamente le persone sono spaventate però voglio dire andiamo al supermercato cioè comunque usciamo viviamo cioè siamo tornati a vivere però se lo facciamo con le giuste precauzioni cioè anche il cinema è diventato un luogo molto sicuro perché c'è il distanziamento e i posti sono alternati l'utilizzo delle mascherine insomma la sanificazione che impressione ti ha fatto vedere il film perché ovviamente ci sono tutta una serie di comportamenti che noi non possiamo più agire che vediamo in quel film perché è stato girato ovviamente una grande emozione davvero perché vedere cioè io ci ripensavo durante il lockdown c'è soltanto il pensiero che noi eravamo dell'ascensore siete in una scena cardine per quanto la riguarda è una scena che avviene dentro un ascensore quindi il luogo per eccellenza e anche di una prossimità diciamo tra noi attori che adesso sarebbe impensabile forse forse lo stanno facendo con i tamponi insomma in qualche modo per fortuna si torna a girare ma sì a me emozionava anche pensare a quella città no piena di luci di colore che adesso non è più così cioè anche Las Vegas ha risentito pesantemente di questo grande colpo insomma del resto tutto il mondo ma sì è davvero emozionante io spero che le persone possano trarre un sollievo proprio qualcuno ha usato questo termine lo trovo molto bello da questa commedia perché è una commedia leggera elegante che romantica però sollievo anche dal poter vedere questo questo mondo come ci auguriamo tutti che possa tornata ad essere c'è un mondo di abbracci di condivisioni di divertimento insomma pensare che che la vita possa tornare ad essere anche così che un po più leggera allora divorzio a las vegas al cinema dall 8 di ottobre giusto ricordiamo con grazie a schiavo con andrea de logui giampaolo morelli righi di memphis righi di memphis poi c'è vincent riotta tanti tanti comunque 8 ottobre vi aspetto vi aspettiamo con gioia per condividere qualcosa a cui teniamo molto no perché quando fai un film aderisci totalmente a quel progetto e noi siamo fieri difetti non difetti siamo siamo veramente molto affezionati e e soprattutto abbiamo creato un gruppo coeso una family e questo è è molto bello e ci rimettiamo la mascherina ragazzi essi ci tocca tutto ci tocca il fatto è anche al cinema tranquilli e sicuri a godere di tutti i film non solo divorzio intanto andate a vedere divorzio las vegas ma andate al cinema grazie a tutti